Ora questo libretto l'ho fatto, però non ho clienti, quindi va nel mucchio più in là, o in qualche scatola, insieme a altri 9.000 disegni che ho, bisogna fare qualcosa, perché ho ancora tanta carta da disegno e anche quella fatta a mano. Comunque mi diverto in questi tempi di corona, aspettando, aspettando la morte, arrivederci da vivi.